Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, un nuovo video, allora oggi facciamo un video dove reagiamo ai video di un mio fan, che si chiama LG Games, mi ha scritto, vediamo, ecco qua, mi ha scritto in un video che avevo fatto su Roblox, adesso puoi fare un video che reagisce ai miei video, please, e io gli ho lasciato i pollicini e ho deciso di fare questo video, andiamo a vederci i suoi video. L'ha fatto due ore fa e non ha avuto nessuna visualizzazione, lasciamo un like in un visual, vediamoci i video. Ichi non è un pochino, non è un pochino oh, sta bene oggi oggi quindi il più in alto un po il pulsante sull'esterno come i bambini piccoli l'ho mai giocato gli ha censurato la parola mai madonna mia un occhioina però non capisco perché non parla e non si fa sentire ciao al prossimo video ciao al prossimo video ciao che strano comunque ebbene andiamo a reagire agli altri video qui a questo solo due video ebbe se non si trova l'avrò fatto, però non l'avrò mai caricato in bici però è bello di fare però c'è da dire che a differenza del secondo video questo qui l'ha fatto bello lungo e ha un milione di soldi, questo qua ha giocato da totmine offline bene, chiudo un attimo la cosa, ok? la porta se non parlerò per il video non pensate che io sia poi non si fa sentire, non parla, non dice niente niente voi essere, ciao, voi essere un amico non ci vuole, dàmono, c'è essa due non ci vuole io non posso in giro cosa sto scrivendo vediamo sto cadendo ho capito cosa sto scrivendo a scrivendo già solo ho fatto questi due video oggi e al 12 iscritti bravo mai ricevuto l'assegno I know the song sleep sarebbe il pet che ha sonno cosa cavolo sto scrivendo un certo sa proprio niente andiamo la mia ma perché sto scrivendo in certo ma non si vede niente è strano 23 minuti e 51 è durato questo video assurdo ci sono mi sono un po bella ma si 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 a ex ci no, non capito non è vero non si può verificare non si può verificare E' il numero del suo account, bravo, sta rientrando su Adottmi? Non so se ha i dati mobili attaccati o sta registrando con il wifi, io ho registrato di più il mio primo video di oggi. Forse non parla perché si vergogna, non lo so, non sto capendo perché ha fatto solo i due video oggi, non ha parlato, non ha fatto socialità, niente. Non ha socializzato, registrazione schermo. Si sta caricando troppo lentamente. Oggi l'ha registrato, bravo. Alle 15.32 proprio. No. 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 Loading save. Sorry. almeno però se se il fan guarderà questo video almeno metta mi piace che fa più video perché mi sembra che ne ha fatti solo due oggi casa sua che bella ha dei pet, delle uova bravo mi sto scrivendo mi piace casa mia mi piace la mia casa secca mi piace la mia casa via altro non fa i soldi te lo questo è il mio modo telefono che è bello strano tele che sta scrivendo tutto staccato ah perché sennò li usciva censurato bravo roblox ha strani problemi se censura le cose anche non volgare ma questo è il mio primo video questo è il mio primo video il mio primo stacca le parole stacca le parole po' sta cosa deve far arrabbiare tutti li censurano le parole stacca le parole po' stacca le parole po' rompono sempre il cavolo andiamo al centro a fare un po' di trade un sacco di pet mamma mia mamma mia stacca le parole po' stacca le parole po' stacca le parole po' non ho un tacchino quella lì è scena su un tacchino no ежде ti ti magari non e sto scrivendo non sto capendo si chi sta scrivendo bu aspettate raga andiamo alla mia ragazza che è la mia figa che fa ora non ho capito qui dove parlava questa voce sennò sentono le voci di quelli scemi c'è la mia figa c'è la mia figa c'è la mia figa c'è la mia figa andiamo da lei si è già fidanzato su roblox a posto c'è la mia figa 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 non è mi puoi chiamare amore mio puoi tesoro perché riesce tutto così vuoi essere la mia figlia no poverino non solo faccio la trista già ci voleva provare no posso non essere triste un muro si è un cuoricino ma come chi stai a parlare cerco un cuore caricare ille talafone Grazie. Che sto scrivendo? Ciao. No, basta. Ciao. Va bene. Ok, ragazzi. Io direi che possiamo finire qui. Per oggi basta. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, attivate la campanellina se volete iscrivervi, se volete andate. Mi lasciate perdere quello che ho detto. Iscrivetevi, lasciate un like, attivate la campanellina delle notifiche, così saprete quando esce un mio video. Ok? Come un messaggino. Ciao. Ciao. Ciao.